Bisogna superare la rassegnazione che paralizza e lasciare che il raggio della carità divina filtri attraverso i vetri oscurati del nostro cuore. È un invito carico di fiducia a quello che Papa Francesco ha rivolto ai vescovi della conferenza episcopale tedesca a Roma in occasione della loro visita ad limina apostolorum. Nel discorso consegnato il pontefice non ha potuto non notare una certa erosione della fede cattolica in Germania con una tiepida partecipazione dei fedeli alla vita della chiesa e un netto calo di vocazioni. Di qui l'invito a non focalizzarsi sui bei tempi andati e a essere invece in uscita perché un'eccessiva centralizzazione anziché aiutare complica la vita della chiesa e la sua dinamica missionaria. Dinanzi a una società mondana che deforma le anime e soffoca la coscienza della realtà la chiesa in Germania a partire dai propri vescovi deve vivere con coerenza il Vangelo e proteggere la vita incondizionatamente dal concepimento fino alla morte naturale. Tra i pensieri di Papa Bergoglio anche le centinaia di migliaia di profughi in fuga da guerre e persecuzioni. Nello spirito di Cristo ha detto vogliamo continuare ad affrontare la sfida del grande numero di bisognosi. Nello stesso tempo sosteniamo tutte le iniziative umanitarie per far sì che le condizioni di vita nei paesi di origine diventino più sopportabili.